un cordiale benvenuto dagli amici in bici con le telecamere guidate da Massimo Gallesi siamo a Ospitaletto Mantovano nella sede del centro di solidarietà a Mantovano L'Arca e siamo qui per raccontarvi le fasi più salienti della presentazione del libro Diabolo di un corridore, le corse, i miracoli, le battaglie di Renzo Zanazzi un libro scritto da Marco Pastonnesi l'autore qui questa sera presenterà i vari aspetti di questa opera un'iniziativa organizzata dall'associazione culturale la senga del presidente Fausto Armanini che coinvolge un incredibile numero di appassionati e di addetti ai lavori Diabolo di un corridore, corse, battaglie, miracoli di Renzo Zanazzi questo è il titolo dell'opera realizzata da Marco Pastonnesi giornalista della Gazzetta dello Sport Com'è nato innanzitutto questo progetto editoriale? È nato con l'amicizia con Renzo Mantovano di queste parti, di queste zone, di questa bassa e poi milanese, milanese fin da bambino C'è stato un incontro una ventina d'anni fa un incontro magico perché Renzo mi ha quasi adottato e abbiamo cominciato a pedalare insieme e poi lui ha pedalato, ha continuato a pedalare raccontando tutte le sue storie, le sue avventure le sue vittorie, le sue sconfitte i suoi amici, i suoi nemici, i suoi capitani che erano Bartali, che erano Coppi, che erano Fiorenzo Magni cioè è stato al servizio dei più grandi campioni dell'Italia del ciclismo un atleta, un uomo che ha saputo esprimere al meglio tutte le sue